Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, sono Gabri Gamer e oggi siamo in compagnia di Fede Bene raga! Saluta, bravo, così ci fa Ragazzi, abbiamo preso ora la registrazione perché poco fa non la potevamo riprendere, ma che ci crediate o no, abbiamo vinto una Bad Wars Guardate, si sfonda scritto qua, 5 vittorie, diglielo Fede Sì, è vero, è troppo vero Ma se lo riprendevamo prima il video era troppo bello, abbiamo vinto la Bad Wars Comunque ora cercheremo di ripostrarvelo vincendo un'altra volta Perché Gabriele ha migliorato ovviamente tantissimo No, io sono migliorato un sacco nelle PvP ragazzi, c'è, un miglioramento proprio che non mi aspettavo Vabbè, ma anche, l'abbiamo vinto anche perché io ho messo l'Ossidiana Vabbè abbiamo messo pure l'Ossidiana nel detto Ho partato con l'Ossidiana io Ragazzi, avevamo una meraviglia Federico guarda quando ci sono nelle mie parti, guarda quante persone che ci sono Lo so, l'ho visto Sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette persone Che no, forse Ho cambiato la skin, guardate che bella La skin dell'Adidas Bellissima Sono tutte piene Federico Guarda Scusa Scusa Vabbè, una sta finendo a team 2 anche Sta finendo Dai, che finisce Dai che ne è finita una Che ne è quasi ne è finita una Con le capre Con le capre, perché con le capre? Ok, una è libera, Gabriele, nero E tra, e tra, e tra E pieno Ma in due secondi sei in vita Infatti era like Oh, quella là che bella Sì Scusate ragazzi Non le so bene Però, quella che abbiamo vinto L'ha rotto per buona Sono tutte piene, Gabriele Ma ti sei mudo Ma sono tutte piene Lo so, non è colpa mia Non ci posso vedere Andiamo nella lobby 2 Oh, quella stavo dicendo Ragazzi non lo so molto bene La pronuncia in inglese Lighthouse Mi sembra che si dice Lighthouse, vabbè Lighthouse, giusto, giusto Andiamo nella lobby 2 No Eh, fai il party Ce l'hai il party Vai, fatti, ce n'è una, ce n'è una Qual'è, qual'è Una di team 2 E a due, forza Rocktop No, no, la mappa che ci piace Veloce Vai, entra La mappa che abbiamo ultimito Team Acqua Ci sei? Fatto, ci sono Ci sono, ci sono A posto, a posto A posto, a posto Gabbiamo vinto Però questa è con i fiori Non è con Comunque ragazzi Avrete notato sicuramente Che è cambiata La grafica della videocamera Ve lo ricordate lo scorso video Quello là Mio di Fede In quel video Stavo registrando con la GoPro Che ci crede Dio, lo vede Sì Stavo registrando con la GoPro Vedete, chi è che registra un video con la GoPro? La GoPro serve per i viaggi E ste cose Lo stavo registrando Perché a momento Non sapevo come usare L'altra fotocamera Ora ragazzi Ho la fotocamera nuova Infatti è la fotocamera dell'Apple Vabbè Gabriele non l'aveva ancora scoperto Però L'ho fatto scoprire io No perché ragazzi Cioè lo sapevo che c'era la videocamera Nel computer Dell'Apple Però Non sapevo come usarla Come si faceva registrare Poi l'ho scoperto dopo Dai Ciao Oro oro Gatti Già stanno iniziando Gabbene Oh guarda L'ha tempo imbannato Per un'ora Solo per un'ora Perché non bannavano Perché non sempre imbannavano anche a me Per un'ora Da Best Games Certo Perché A te ti devono bannare Ti devono non bannare proprio per sempre Anzi Che ti hanno bannato per 14 giorni Lo sei davanti fortunato Vabbè Le hack Vabbè Ho capito No perché Questo scemo qua Ha usato le hack Ma perché Se ci sono Hacker Non mi devo vendicare Secondo te Se ci sono hacker Che mi prendono di mira Così apposta Ma tu perché usi le hack Io non ho mai usato le hack Perché non me ne prega Usarle Si gioca lealmente Come giocano tutti Ok Guarda che bel ponte preciso Che sto facendo Madonna Cioè te lo sogni Tu un ponte così Ogni tre Ogni tre blocchi Faccio un blocco Ponte limpido Forse l'ho fatto un pochino alto Ma 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 Insomma No dai Alto di un quadretto No Aia Dove Dove sei In culo Dai Ah yeah Poi adesso Stanno arrivando i gialli Ah no No Stanno arrivando Lo stanno arrivando Lo stanno arrivando Guarda bene Guarda bene Guarda bene Cioè mi ha fregato perché Stavo finendo il ponte Ma lo sono ritrovato dietro Madonna Cioè Sono saltato in aria Ai oro No No Tre Tre Dammi Ti faccio la spazzola Tieni Ti faccio la spazzola Non me la date Ah vabbè me la date Ok No all'inizio non me la aveva date Va bene Arrivati con il giallo Ho un piccolo problema Guarda è qui nel ponte Con la canna da pesca Con la canna da pesca Mi ha fatto cadere Sempre sulla canna da pesca Ma affatto Quanto costa? Non lo so Ha distrutto il ponte Perfetto Il mio perfetto ponte Il mio ponte Mamma mia Il mio perfetto ponte Lo sapete quando ho speso Per fare sto ponte? E' vero dove sono La nostra base La nostra base La nostra base Lo sapete quando i soldi Ho dovuto spendere Per fare sto ponte? Fede dai Dai Fede No Gabriele Fede Vieni Mettiti qua Così quando scendono I golem Faccio il golem Faccio il golem Vai Veloce Veloce Lo tengo a battaglia Vai Golem Golem E' sopra E' sopra Il golem Il golem Veloce Veloce Vai sopra Fede Vai dove l'ammazzare Pure il golem Sta salendo sopra Sei morto? No Non sono morto Però l'ho ammazzato Sì Sì Mi ha dato 42 In ingo Ma io ci ho fatto Il ponte verso i diamanti È effettivo Root me ne ha reportato Io senza reportato Perché? Ma perché ne ha reportato? Reportato vuol dire Che ti barnava Lo so Ma perché? Che ho fatto? Ma infatti Non ho fatto niente Non ho usato le hack Però le ho usate una volta Una volta le ho usate Su best games Adesso no Adesso non ne sto usando hack Pensa che sto usando Gli hanno distrutto il letto il blu Ma come godo Cosa? Gli hanno distrutto il letto il blu Eh Molto bene Godo godo Ma non vende bianchi o Ma non vende bianchi? Che? Ma perché ce lo faccio così? Yes 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 No! C'è lo stecchettino! No 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 C'è lo stecchettino Ti uccido con lo stecchettino L'ho messato Non può essere Io ho dato 100 colpi Come può essere? L'ho messato Io sono statuto però Non c'avevo niente Non c'avevo niente Non sto cadendo in un bordo Pace in due Certo che pace in due Pace in due Pace in due A proposito di due, abbiamo due diamanti 5 io ne ho Metti lì il cesto Ma io direttamente faccio gli update Ok perfetto Ho fatto l'ironforge e l'emaladforge C'è la goldenforge Ah, a Gabriele vado a vedere cosa c'è nella base dei cicialli Nelle ceste No, niente, niente, non c'hanno niente Però in base c'hanno 47 di gold Vabbè può tornare sempre utile Molto utile Per prenderci l'arco, per prenderci spade Le frecce Le frecce È molto utile per me E quello usa lo sticchettino poi Lo sticchettino È da nabbi Vada, me la doro, non vale E dove devo andare Qua ci butto le bombe Mi sono disagentato Mancano sole bianchi Mancano sole bianchi Spacchi il letto Eh, faccia l'ossiliano io Vai Io c'ho 4 di emerald, quanti ce ne sono in cesto? Boh, mi sembra 4 Ok, meglio, meglio, meglio Eh, nella base dei cicialli, se ce ne sono tutti a due, ce la facciamo a scompigia Aspetta Cristo Quanti ce n'è in cesto di... Eh, in cesto cosa? Di smeraldi In cesto ce n'è uno Perché io l'ho messo ora io Io ne ho 8 Dai, Fede, è sopra Penso No, non è nel sopra Schiappa Vabbè Fai tu l'ossiliano Ok, l'ho fatta, l'ho fatta, tranquillo Perfetto Aspetta che... Qui è qui Ma c'è la meladoro, lui Non vale, non vale Non vale, c'è la meladoro Fede, sta andando in base Fede, è sul ponte Va bene Cioè, devi fare sta cosa l'ossiliano, falla, sbrigati Ma perché? Non lo fa vedere Hai fatto cadere? Sì Grande 43 Io l'hai messo l'ossiliano? No Mettila Non lo mette, aspetta Ma ce l'hai assai? Cioè, per farlo tutto? Sì Bravo Con l'ossiliano siamo proprio Asciutti e puliti Saluto Io vado a vedere se accendono Ci sono C'è, meravigli Ok Guardiamo 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 Ho guardato Gabriele Con l'ossiliano? Ossiliano Da tutte e due le parti Sì 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 Niente più vita complicata Prende anche tu L'ossiliano Prende anche tu Federico Per ripararti la casa Vabbè Gabriele Abbiamo protetto tutto Scusa No, no, no Ho sei Emerald Ho sei Emerald Muori, muori Non ci credo No Non può essere Gabriele No Basta, mi sono lotto Mi sono lotte le palle C'è lo stichettino C'è lo stichettino Ma perché lo stichettino? C'è lo stichettino Fede è in base Fede è in base Che palle Che due palle L'ho fatto con te No C'è l'arco pure Oh ma che due palle Che due palle Fede è sul ponte Malendenzanato No, 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 no Adesso non ce lo distrugge il letto Dopo che gli mette Non ce lo può distruggere Almeno che non ha Un piccone di Di A me lo botto giù Tranquillo, tranquillo Tranquillo Tanto l'abbiamo l'ossidiana Noi Non può ammazzarci Cioè Non può Ma cosa fa? Ma cosa fa? Ma cosa fa? Che cosa fa? Che non buca l'ossidiana C'è l'ossidiana Sì però c'è l'altro Fede Aia Oddio L'arco no L'arco no L'arco no Paran 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 È morto Gesù diamine Uffa Fede occhio È qui È qui Fede qui Basso Oh Fuori Oh Sono morto Quanto vita c'ha? Non lo so Stai cadendo Sta cadendo Fuori È stata un po' bella la scena Stai cadendo Non muori È caduto È caduto Sì Che cacca Fa un cuore va L'ho fatto cadere Aveva il piccolo di diamante Aveva il piccolo di diamante L'ho fatto cadere Mi sa che il golem si è innamorato Non mi interessa Bardi è letto Veloce Un attimo Un attimo Cioè Federico Stava spaccando lo stilano Con il piccolo di diamante L'ho fatto cadere Mi sa che il golem si è innamorato C'aveva un Un fiore in mano Vede poche chiacchiere Barda Va bene E togli quella cagata Quanto la Minduna Sono là Oddio È qua È qua È qua È qua Via No Come faccio a morire Ma lascia Pantren Ma lascia Aia Basta 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 Madonna Ma che male Muori Ma cosa Ma cosa Stui Tua madre Coccola Aia Aia L'ho ucciso Bravo Bravo Mi vuoi far sognare oggi Insomma Eh Va bene Oh mi ha dato due emerald E quattro diamanti Io c'ho Fede barda Veloce Cerca di bardare Ok 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 No Ho sbagliato Ho buttato la Ok La togli sta cagata che hanno fatto Ah beh La tolgo io con la TNT La tolgo io Tu fai il letto No Non la togliere con la TNT E spunto pure Il Il bardamento Che faccio Cagliere Veramente 7 emerald Sì Mi faccio la spada Anzi no mi faccio l'arco Meglio della spada Vado ad ammazzarli Vai Io c'ho l'arco Quello La di Semerald Fede Stanno arrivando Non c'è due in coppia Fan tre Ci sono Ho paura Io non ho paura Io sono forte Federico Ma cosa vuoi fare Contro due Contro i nabbi Voglio Voglio combattere L'ho colpito L'ho colpito Bravo Però c'è lo stick Ancora Basta Questo stick Questo stick Ammazzati Ammazzalo Vado a cadere Vado a cadere No Si No Su cuore Vaffan tre Vaffan tre Lo stavo facendo cadere Fai a te Dalla Wison L'ho colpito Ci abbiamo Quanti emerald Ci abbiamo L'ho fatto cadere E' sotto nel letto Fede Non è vero Si Hai piccolo di diamante Ammazzalo Ahi piccolo di diamante Fede L'ho ucciso Io l'ho ucciso Lui Ce n'ho ucciso C'era una sorta Fede Oddio Oddio Eccolo No Sono caduto Con lo stecchino No Fa il culo Questa bed Orsi sta durando tanto E appunto Mancano tre minuti Alla fine Fede Spacchi il letto Oddio Ma vaffan tre Vaffan tre Hai capito Hai capito Come c'è rotto le palle Con questo stecchino Stecchino Grande Quanti Emerald Mi ha cambiato 201 Ingot Iron Iron Ingot Fede Andiamo gli a spaccare il letto Cosa? Andiamo gli a spaccare il letto Sì No Cosa C'è le nabbi Perché fate due contro uno Ma noi ci dobbiamo difendere? C'è le nabbi Perché fate due contro uno Ma vattene Ma cosa? Ma cosa C'è sweet C'è sweet C'è sweet Ma cosa? Nabbo ci sarai tu Bessia Sui Sui Porca puttana Sui Ma non ho quando sta durando Stai bene Guarda Sono tre minuti Muori È mazzo No Guarda Guarda C'è chiuso Fede C'è chiuso Lo so Lo so Lo so Sta mangiando la mela d'oro Sicuro Aia Fate sul letto Sul letto Come sul letto? Cosa c'ha il piccolo di manda? Non lo so Sicuramente ce l'ha Aiuto No Aiuto Non mi voglio morire Basta Ciao Vaffanculo Va Vaffanculo Spaccato per il mouse Spaccato Aia Fai dei piccoli Fai dei piccoli di diamante Fuga No Cosa di vita Vaffanculo Come cazzo Come cazzo Come cazzo Come cazzo Vinca 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 Aia 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 No Vaffanculo 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 Spaccato Vinca Vinca Sa No Vaffanculo Ciao ragazzi che vi posso dire sto scherzando sto scherzando che ovviamente abbiamo combattuto tanto tanto se ne andata un'ora di video mamma mia quando devo tagliare un'ora di video io spero spero che il video di oggi vi sia piaciuto anche se non abbiamo concluso niente però è stata bella combattuta stafattita mi è piaciuta perchè è stata bella combattuta quindi ammelo like per questo ci vediamo come sempre in un prossimo video qui da gabby gamer è tutto bella bella raga adesso mi devi spiegare come si fa a chiudere il video aggiusto prima chiudo qua perchè non si chiude a che si è chiusa e dopo chiude qua